Prendiamo un po' di polvere rifata e chiamiamo subito la numero 4, lei si chiama Maria Novella e da Peter Pan interpreta Rilly! Grazie! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Le interpretazioni possono essere articolate come un balletto, come una recita... Prego, 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 prego! Guarda, la giuria ti fa cenno di... Avvicinati, non ti spaventare, non ti dobbiamo chiedere niente! Capitano Uncino si sta informando sulle ani Trilli! Sarà per sabotarla? Vuole volare! Tagli un po' della tua polvere di pata, Trilli, dai! Sì, no, allora, per favore, capitano Jack Sparrow, iniziamo con battute! Bene, grazie Trilli e allora... Grazie Trilli, passiamo al prossimo concorrente! Ritorniamo nella turma! Sempre in One Piece abbiamo... Momento, momento, momento... La pacchetta, ma questa è una pacchetta! E' una pacchetta! E' scarica! E' scarica, non prendi più la pacchetta! Va bene, allora... Abbiamo il nostro Richard che interpreta Zoro Bambino da One Piece!